La nomina del revisore legale dal 2023. Confartigianato Imprese Vicenza organizza un webinar informativo giovedì 20 aprile alle ore 12 per spiegare le novità e gli impatti operativi ma soprattutto per fornire alle imprese assistenza e soluzioni concrete in modo che un obbligo possa diventare un'opportunità per una sana gestione aziendale. A presentare gli argomenti dell'incontro la responsabile area gestione di impresa dell'Associazione Erika Faggion. Con l'approvazione del bilancio di esercizio 2022 entra definitivamente in vigore il nuovo testo dell'articolo 2477 del Codice Civile la cui efficacia era stata sospesa negli ultimi anni a causa dell'emergenza Covid. Ora che la norma è diventata pienamente operativa le società di capitali dovranno effettuare una verifica di alcuni parametri dimensionali dettati appunto dall'articolo 2477 del Codice Civile e precisamente 4 milioni di euro di totale dell'attivo di bilancio, 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni e 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. In sostanza quando si supera almeno uno di questi limiti per due esercizi consecutivi scatta l'obbligo di nomina di un revisore legale. Quindi per il 2023 l'orizzonte temporale da prendere in considerazione sono gli esercizi 2021 e 2022. Ma chi è il revisore legale? Innanzitutto è un professionista indipendente che ha come compito principale quello di effettuare delle verifiche periodiche trimestrali sulla contabilità al fine di arrivare alla certificazione del bilancio di esercizio. Spesso nelle società di più piccole dimensioni si teme un po' la figura del revisore legale perché si pensa erroneamente che questo sia una sorta di controllore dell'impresa. In realtà il revisore deve essere visto come un soggetto che può essere di grande aiuto e dare supporto all'impresa nella continuità aziendale. La revisione certamente è un obbligo di legge, non possiamo nasconderlo, ma non deve rappresentare un problema per le imprese, anzi, deve essere vista come un'opportunità per una gestione più sana. Partendo da questo principio, l'obiettivo di Confartigianato Imprese Vicenza è quello di accompagnare le società di capitali associate nel percorso di cambiamento che necessariamente la loro crescita dimensionale comporta. Abbiamo quindi individuato una soluzione su misura per le piccole imprese stringendo una collaborazione con una società di revisione del territorio al fine di rendere il meno impattante possibile l'ingresso in azienda del revisore legale. Giovedì prossimo, 20 aprile, alle ore 12, si terrà un webinar dedicato a questo tema nel quale spiegheremo le novità normative, qual è il ruolo e il compito del revisore legale e che cosa Confartigianato ha messo a punto per i propri associati. È possibile iscriversi all'evento direttamente dal nostro sito internet. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.